Un saluto dalla redazione sportiva il calcio in primo piano con il Pescara che questo pomeriggio all'appoggio degli Ulivi ha ripreso il lavoro in vista del prossimo impegno di campionato quando sabato all'Adriatico arriverà il Bari per la 33esima giornata del campionato di BWIN. Oggi prima dell'allenamento agli ordini di Zeman, consueta conferenza stampa, non ha parlato il tecnico Boemo che ha continuato nel suo silenzio, ha parlato invece il direttore sportivo Dell'Icarri che è tornato sulla partita del Duca di Ascoli e ha analizzato con molta lucidità il momento dei biancazzurri Dell'Icarri. Parto soprattutto dal fatto che sono due partite che non vinciamo, sicuramente qualcosa non è andato in queste due partite tecnicamente, ma questo c'è un allenatore che poi saprà toccare i tasti giusti e il discorso arbitrale ormai se ne sta facendo un caso politico e noi non dobbiamo cadere in questo, sicuramente i giocatori dovranno pensare più a quello da fare sul campo che all'esterno, che all'esterno ci penseremo noi. Sicuramente noi ci aspettiamo e ci aspettavamo anche un po' più di rispetto rispetto alla partita precedente, ma non che ci dovessero regalare come in altre occasioni, niente, soprattutto in riferimento al primo gol subito domenica, sabato, perché poi fondamentalmente rivedendo la partita fino a quel momento lì la partita era stata molto tranquilla, senza munizioni, abbastanza gestita anche bene dall'arbitro, poi purtroppo un errore del guardaline ha causato il primo gol, ha innervosito gli animi, tant'è vero che poi un nostro giocatore dalla panchina come Andrea Gessa ha perso un po' le staffe facendosi buttare fuori, molto probabilmente noi cerchiamo più attenzione. No, 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 ma la fede non ci vuole neanche pensare se no dovremmo ritirare la squadra e quindi di conseguenza non penso minimamente a questo. Sicuramente c'è poca attenzione molto probabilmente, ma è questo che gli ho richiesto anch'io sabato tra il primo e il secondo tempo alla Terna e gli ho chiesto a fine partita, che noi avendo anche ritmi alti molto probabilmente non ci si riesce a seguire, è capitato in altre circostanze, c'è capitato sabato, ma sicuramente ma la fede no. No, abbiamo chiacchierato poi tra le altre cose che stava diventando una partita troppo nervosa, tant'è vero che tra il primo e il secondo tempo io sono sceso giù nello spogliatoio per calmare i giocatori, per calmare i ragazzi e pensare a giocare, che era la nostra prerogativa, che in questo momento analizziamo e non ci riusciamo. Ciampi poi mi ha risposto come è giusto che sia che mi rispondesse a quella maniera, che purtroppo si fanno degli errori, si sbaglia, non bisogna essere aggrediti, ma questo purtroppo gli animi si scaldano. Gli ho spiegato anche che purtroppo può capitare che da una domenica all'altra possa succedere una cosa del genere, di scusarci nei modi, però purtroppo il nostro pensiero rimane. Ma la squadra prima di tutto non deve pensare a questo, perché la prerogativa della squadra è di pensare a giocare. A questo ci pensiamo noi, loro non devono crearsi un alibi. Io non voglio assolutamente che la squadra pensi ai torti arbitrali. In questo momento c'è da concentrarsi sul campo perché ci sono dieci finali da fare. Ma ultimamente siamo noi che non siamo fluidi nella manovra, non siamo veloci nella trasmissione della palla, molto probabilmente, perché la qualità di questa squadra è quella di essere veloci nella trasmissione della palla e cercare di aggirare l'ostacolo che molte volte in questo momento non ci si riesce. Ma non c'è nulla di grave e non c'è da far grande clamore perché ci aspettano dieci partite dove bisogna rimettersi in pista e macinare tantissimo. No, no, assolutamente, io questo sto dicendo. Sicuramente noi abbiamo da rivedere molte cose in questo momento perché perdere 3-0 non penso che non ci sia da rivedere niente e pensare di aver fatto una buona partita. Parto dal presupposto che bisogna rivedere il fatto di aver difeso male e di aver fatto degli errori individuali perché comunque sono stati fatti errori individuali al di là, come dicevi tu, Zanon che non rincorre sbaffo, che scatta, molto probabilmente è un errore individuale. Certo, ci mancherebbe. E io questo vado ad analizzare. Ecco perché cerchiamo un attimo di sdrammatizzare la situazione in tutto e per tutto nel fatto di classifica perché siamo secondi e non buttiamo all'aria quello che di buono abbiamo fatto nel fatto che non bisogna pensare alla malafede dell'arbitro e sicuramente andare ad analizzare i nostri errori. Oggi al poggio degli olivi e agli ordini di Zeman non c'erano Verratti, Capuano ed Insigne e tutti convocati nell'Under 21 di Ciro Ferrara che si è radunato per uno stage in vista dell'amichevole del 25 aprile contro la Scozia e soprattutto del successivo impegno del 4 giugno in casa della Repubblica d'Irlanda, gara valevole per le qualificazioni europee. Quella contro l'irlandese è una partita che cade dunque il 4 giugno e cioè nel momento in cui nel campionato di Serie B si disputano i play-off per l'ammissione al campionato di Serie A. In calendario il 30 maggio per quanto riguarda le gare di andata, il 2 giugno per quanto riguarda le gare di ritorno, poi l'eventuale finale da disputare il 6 giugno che è mercoledì ed il 9 giugno cioè sabato. Ovviamente sono date che il Pescara tiene in considerazione perché se dovesse fare i play-off deve tener conto il clan biancazzurro che in under 21 ci sono dei giocatori biancazzurri per l'appunto, ovvero Insigne, Verratti, Capuano ed eventualmente Immobile. A tale ipotesi il Pescara sta lavorando, si sta lavorando per l'appunto per cercare di far spostare le gare in calendario, il DS Delicarri ha esposto la questione al presidente di Lega Abodi eventualmente poi si troverà una soluzione, si sta lavorando affinché il Pescara, se dovesse disputare i play-off potrebbe farlo con tutti gli effettivi a disposizione. Intanto per quanto riguarda sempre il campionato di Serie B, il Bari, il prossimo avversario dei biancazzurri nell'ultimo turno ha pareggiato 0-0 in casa contro la Juve Stabia, Bari decimo in classifica ad un passo dalla salvezza aritmetica ma lontano da play-off, il servizio di Federico De Luigi. Per la settima volta in campionato il Bari al San Nicolo non va oltre il pareggio, ci pensa una discreta Juve Stabia di ingabbiare senza nemmeno faticare più di tanto i biancorossi di Torrente che fra le mura mica conferma di avere più di una difficoltà, tant'è che il ruolino interno è migliore solamente rispetto a quello di Albino Leff e Nocerina e Dascole, le ultime tre di questa speciale classifica. Il Bari in questo momento paga anche le diverse assenze nel reparto avanzato e chi c'è fa quel che può. Kutuzov in attacco fa tanto movimento ma sottoporta non è altrettanto bravo come nei movimenti senza palla. L'ex Pescara Stojana si smarrisce al momento del dunque negli ultimi 16 metri. La classifica dice che il Bari è decimo a 42 punti, se è un buon piazzamento o meno dipende dai punti di vista, non buona per chi vuole i playoff perché gli otto punti di ritardo rispetto al Padova sono tanti, discreta per chi a questo campionato chiedeva una salvezza tranquilla e la valorizzazione dei diversi giovani in rosa per la trasferta di Pescara Torrente di Vagarofro e Cepitelli che hanno scontato il loro turno di qualifica. E con questa notizia chiudiamo anche questa edizione della Notizia Sport. Io ricordo che tutti i servizi, tutti i telegiornali sono a portata di clic all'indirizzo www.latvnews.it A me non resta che ringraziarvi per la cortese attenzione. Appuntamento al prossimo spazio con l'informazione sportiva firmata dalla TV dell'Adriatico. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Arrivederci. Grazie a tutti.